signori benvenuti a un'altra reaction youtube oggi reagiamo a ovviamente non l'ho mai vista manco questa poladritto cioè di poladritto angelo greco è uno spacciatore 55 secondi però cortina non fa niente via vabbè sì quando ero piccolo come tutti i bambini mi masturbavo sempre in cucina poi a mia madre mi fulminava lo scroto coltese un po tipo non so se avete presente la tortura del cazzo le palle abbassa il pantaloni tuonava mia madre ora voi dovete pensare a me che avevo sei anni già con una spiccata vocazione allo spaccio di sostanze stupefacenti che tenevo sotto le palle è lì una sborrata tutto sotto le palle tenevo mica esisteva la prostituzione minorile ciò vuol dire che lo stupro era legale ed allora immaginate che nel bel mezzo di una penetrazione una bambina resti in città no 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 mi sto dissociando mi sto dissociando completamente madonna non pensavo che era così no angelo greco è troppo è troppo pupabile perché c'è lui parla veramente di ste cose questa è la cosa bella no tu fatti questa è la legge ah ok è finita bellissima fatemi sapere se ci sono se volete altri youtube pup cioè reaction di youtube pup grazie a tutti